Sarà dedicata ai giovani allo sport l'area adiacente all'impianto sportivo comunale Verbatron. A gestirla sarà la società sportiva Amatori Verbagna Rugby. Lo ha deciso con un atto di indirizzo la Giunta Verbanese. La zona interessata comprende l'impianto sportivo comunale a Sant'Anna e il nuovo skate park, attualmente in stato di abbandono. L'amministrazione comunale ha ritenuto indispensabile, sia per motivi di igiene che di sicurezza pubblica, la sistemazione di tutta la zona. Dal momento che la società Verbagna Rugby ne ha fatto richiesta, si è deciso di darla in gestione come campo di allenamento. La società si è impegnata anche alla sistemazione e manutenzione, con una conseguente maggiore salvaguardia della pista di atletica che circonda il campo da rugby e che è attualmente in fase di rifacimento. Un atto di indirizzo, quello della Giunta, che porterà gli atti necessari a estendere la convenzione attualmente in essere con la SD Amatori Verbagna Rugby anche all'area in oggetto. Grazie.